Musica Polla, sversamento di rifiuti liquidi in un affluente del fiume Tanagro, ha sequestrato l'impianto di un colorificio. Sala Consilina, ieri sera l'apertura ufficiale della nuova stagione di Consilinum Senatoris, presentato il nuovo studio legale senatore con l'aula di formazione. Capitale italiana della cultura, doppia candidatura dal Vallo di Diano, impazza la polemica, interviene il presidente della comunità montana, Raffaele Accetta. Piaggine, l'amministrazione Vairo, pedala verso un turismo sempre più sostenibile. Ritorna il presepe nelle grotte di Pertosaoletta, l'inaugurazione lunedì 23 dicembre. Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, i carabinieri forestali della stazione di Polla nella giornata di ieri hanno sequestrato l'impianto di un colorificio per lo sversamento di rifiuti liquidi non autorizzati in un affluente del fiume Tanagro. Vediamo i dettagli. Carabinieri forestali in azione nella giornata di ieri contro illeciti ambientali che danneggiano la natura con rischio di inquinamento. I militari in servizio sul territorio valdianese continuano alacremente in una maniera incessante la perlustrazione dell'intera area al fine di individuare eventuali casi di sversamento di rifiuti illeciti che può rivelarsi dannoso per le comunità locali. Nell'ambito di tali operazioni, i militari della dipendente stazione Carabinieri di Polla sono venuti a conoscenza tramite social network di possibili sversamenti di rifiuti liquidi in un affluente del fiume Tanagro situato nei pressi della zona industriale di Polla. Sono quindi partite le verifiche che hanno accertato la presenza di uno scarico refluo privo di autorizzazione da parte di un colorificio. Nello specifico i Carabinieri forestali nel corso di mirati controlli dell'area industriale hanno individuato nei pressi di un colorificio oltre alla presenza di uno scarico di refluo industriale sprovvisto delle dovute autorizzazioni anche un impianto di estrazione che emetteva fumi di processo in atmosfera. I militari hanno avuto modo di accertare che le acque di piazzale caratterizzate anche dalla presenza di sostanze derivanti dalle lavorazioni venivano prima raccolte attraverso apposite griglie e successivamente convogliate attraverso un pozzetto collegato alla fognatura non servita da impianto di depurazione direttamente in un corso d'acqua superficiale affluente del fiume Tanagro. I militari del reparto di Polla, unitamente i Carabinieri forestali di Padule intervenuti a supporto dell'operazione, hanno quindi proceduto al sequestro degli impianti al fine di impedire il suo utilizzo e per preservare le matrici ambientali interessate dagli sversamenti. Le attività non si fermeranno qui, i Carabinieri forestali sono infatti al lavoro per effettuare ulteriori verifiche su tutto il territorio al fine di controllare se sussistono altre emissioni che possono essere causa di inquinamento del fiume Tanagro. E ancora cronaca, ha truffato i risparmiatori per un ammontare di 266 mila euro disposti gli arresti domiciliari per l'ex direttrice dell'ufficio postale di Aquara. La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una ex dipendente delle poste italiane, che in qualità di direttrice ed unica impiegata di un ufficio postale della provincia, si è appropriata nel tempo di 266 mila euro approfittando della buona fede di numerosi risparmiatori. In particolare, l'indagata ha compiuto negli anni continue operazioni illecite e fraudolente su libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, che hanno portato in alcuni casi al completo svuotamento dei depositi intestati a persone anziane in gravissime condizioni di salute, le quali avevano poca familiarità con la gestione di rapporti finanziari e postali. In un caso è emerso che la direttrice dell'ufficio postale indagata ha eseguito operazioni post mortem di una correntista, relative alla gestione di un prodotto finanziario, con conseguenti appropriazioni illecite compiute sul libretto postale e sul conto corrente intestate alla persona deceduta. L'esecuzione della misura cautelare giunge a seguito della pronuncia di accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Salerno. E ieri sera la presentazione del nuovo studio legale senatore in località Quattroquerce a Sala Consilina nella nuova e moderna struttura commerciale nei pressi dell'uscita autostradale. L'avvocato Nicola Senatore ha voluto riservare un ampio spazio alla formazione con una sala convegni multimediale in cui nella stessa serata di ieri si è tenuto il primo convegno appuntamento formativo di Consilium Senatoris su il governo del territorio tra autorità e consenso dall'urbanistica consensuale al permesso di costruire convenzionato aspetti amministrativi giuscontabili ed economici con illustri relatori. Ascoltiamoli. Il raccomando di oggi riguarda una serie di aspetti del diritto amministrativo importante ed affascinante. È il primo appuntamento di tanti perché l'impegno esiste e vogliamo veramente portare nel Vallo di Diano e nel comprensorio intero la scienza del diritto amministrativo attraverso magistrati, professori di rilevo nazionale. L'attività professionale non deve essere finalizzata a se stessa ma si deve aprire, si deve aprire anche ai professionisti che operano in altri settori, quindi mi riferisco agli architetti, agli ingegneri, agli stessi colleghi avvocati per un confronto continuo e con gli amministratori locali. Quindi creare un luogo dove riunirsi per approfondire argomenti che poi sono di interesse comune credo che sia un'utilità per tutti. Il Cilento e il Vallo di Diano sono delle zone bellissime. Noi dobbiamo cercare di riconvertire in un vantaggio lo svantaggio storico di essere stata una zona, come dire, arretrata, non toccata da sviluppi industriali e quindi valorizzare i piccoli centri, questo grande patrimonio. Mi ricordo che c'è una legge speciale per questi, per i piccoli centri e quindi non solo lo consiglio ma credo sia una via obbligata. Cioè in pratica io credo che la chiave per cercare di ripartire sia proprio il turismo culturale e quindi il centro storico come fatto identificativo di una comunità è l'unico modo per fare turismo culturale e attrarre qui le persone, far ripartire un po' l'economia, credo che sia una cosa fondamentale. Il tema generale è quello del governo del territorio, della pianificazione urbanistica e io affronterò in particolare un aspetto da economista perché io insegno economia politica all'università che riguarda come declinare la pianificazione dello sviluppo urbanistico nei territori in cui il problema non è consumare altro suolo per aumentare la possibilità o la cubatura ma il problema opposto di perdita massiccia di popolazione, uno dei fenomeni attualmente in accelerazione allo spopolamento delle aree interne che colpisce soprattutto le zone interne della provincia di Sarenno e quindi come ripensare la pianificazione in maniera da fronteggiare questo tipo di fenomeno, il che non vuol dire A, arrendersi al spopolamento come un inevitabile fenomeno epocale e B, progettare lo sviluppo piuttosto che la pianificazione urbanistica. La vera pianificazione non è organizzare il territorio ma organizzare la comunità che vive nel territorio in maniera da accrescere quella che un grande economista e anche filosofo meridionale del Settecento Antonio Genovesi chiamava la felicità pubblica. Il nostro ordinamento in generale tende sempre di più a raggiungere soglie di complicatezza complessiva che possono mettere in difficoltà gli operatori del diritto però per quanto riguarda proprio questo aspetto peculiare cioè di una urbanizzazione carente in aree che appunto come questa non hanno una presenza di abitazioni, di una popolazione diffusa sul territorio, proprio in questi casi ci sono degli strumenti giuridici che potrebbero trovare applicazione e in particolare l'articolo 28 del testo unico dell'edilizia che disciplina il permesso di costruire convenzionato, cioè si tratta in pratica di consentire a chi intende costruire su un territorio che non è ancora adeguatamente urbanizzato di conseguire il titolo attraverso una convenzione con l'amministrazione locale impegnandosi a realizzare quelle opere di urbanizzazione che ancora mancano. Quindi gli strumenti giuridici ci sono, forse occorre una maggiore consapevolezza da parte sia delle amministrazioni ma soprattutto anche degli operatori economici nel senso di avere la consapevolezza di poter utilizzare questi strumenti affinché si possa creare un circuito virtuoso in termini appunto economici. E passiamo ora alla sanità, anche l'ospedale di Battipaglia vive il problema della carenza di personale medico e paramedico. Nei giorni scorsi c'è stato un vertice tra la sindaca Cecilia Francese e il direttore generale dell'Asl di Salerno Mario Iervolino che le ha garantito interventi per risolvere la criticità. Prendo atto degli impegni assunti dal direttore Iervolino relativamente alla carenza di personale nella speranza che si concretizzino rapidamente in considerazione della situazione difficile in cui verse il nostro nosocomio. La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese trae il bilancio del vertice tenuto con il direttore generale dell'Asl Salerno Mario Iervolino che mercoledì ha garantito interventi per quel che concerne la problematica dell'organico medico e paramedico all'interno dell'ospedale Santa Maria della Speranza. Lo stress dei sanitari sul lavoro, scrive la francese, è molto alto e ciò mette a rischio la qualità della stessa offerta sanitaria. Iervolino ha assicurato che nel breve periodo l'Asl assumerà nuovo personale medico, paramedico e ausiliario grazie a nuovi concorsi e scorrimenti di graduatoria. Il 9 dicembre è stato firmato un decreto per l'assunzione di 11 radiologi e uno o due arriveranno all'ospedale di Battipaglia. Come sempre per scorrimento di graduatoria arriverà un neonatologo. Nel frattempo procedono i lavori per la riapertura della medicina nucleare con l'installazione di un nuovo scanner e la PET. Altra criticità è rappresentata dalla ginecologia che negli ultimi due anni ha visto la perdita di nove ginecologi per pensionamento. E nel corso dell'incontro si è parlato nuovamente dei lavori di ristrutturazione e potenziamento del pronto soccorso. In agenda anche il Centro per l'Igiene Mentale di Via di Amicis che versa in condizioni precarie. La doppia candidatura dei comuni di Teggiano e Padula a Capitale Italiana della Cultura 2021 ha suscitato non poche polemiche in merito alla vicenda e intervenuto anche il Presidente della Comunità Montana, Raffaele Accetta. Due comuni del Vallo di Diano candidati a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2021. Nei giorni scorsi il comune di Teggiano e il comune di Padula, appare nello stesso giorno, ossia il 6 dicembre, presentavano la candidatura singolarmente a Capitale Italiana della Cultura 2021. La doppia presentazione fa oggi discutere non poco il territorio che vede due piccoli comuni appartenenti allo stesso comprensorio dividersi su un'iniziativa che se realizzata in unione poteva rivelarsi quel trampolino di lancio necessario per il settore turistico di tutto il Vallo di Diano. Ciò non toglie che se uno dei comuni riesce ad ottenere il titolo potrebbero comunque beneficiarne tutti i comuni limitrofi. Secondo quanto si apprende, pare che il consigliere delegato alla cultura di Teggiano con Antonio Delia aveva proposto l'idea di candidatura condivisa all'assessore alla cultura di Padula. Il 6 dicembre, poi, al Mibac, vengono inviate entrambe le candidature separatamente. Secondo il bando del Ministero, le candidature potevano giungere non solo da singoli enti, ma anche da unione di comuni. Pertanto il Vallo di Diano poteva ipotizzare una manifestazione di interesse per un'eventuale elezione a capitale italiana della cultura attraverso la comunità montana Vallo di Diano. Il presidente Raffaele Accetta interviene sulla vicenda ricordando anche come in passato un territorio più unito aveva invece condiviso una proposta similare, seppur più ambiziosa, ossia la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019, poi andata a Matera. Ho letto, scrive Accetta, che nei giorni scorsi le giunte comunali di due città del Vallo di Diano, Padula e Teggiano, hanno proposto la propria candidatura a quale città della cultura 2021. Peccato che non ci sia stato un raccordo. Si poteva riproporre la candidatura dell'intero Vallo di Diano, sottolinea, come facemmo già con la comunità montana nel 2013 e da allora la scelta, come è noto, cadde su Matera. Stante l'attuale situazione, spero che possano essere selezionate entrambe le città per le quali l'intero territorio si dovrà mobilitare. Affinché ciò avvenga, dichiara in conclusione, possiamo senz'altro contare anche sul riconoscimento già ottenuto come seconda area pilota per la strategia nazionale delle aree interne. Si è tenuta ieri sera l'inaugurazione della nuova biblioteca Biblu in via processione a San Marco di Teggiano, un nuovo spazio che la dirigente scolastica Rosaria Murano e il docente Giovanni Trotta hanno voluto per l'intera comunità. Grazie all'impegno e alla forte volontà di Giovanni Trotta, docente dell'Istituto Comprensivo di Teggiano e con il supporto della dirigente scolastica Rosaria Murano, ha ripreso vita la biblioteca scolastica Biblu in via processione a San Marco di Teggiano. Nel pomeriggio di ieri grande festa che si è aperta con il taglio del nastro della rinnovata biblioteca da parte della dirigente scolastica Murano e del sindaco di Teggiano Michele Di Candia insieme a Giovanni Trotta. Lo spazio culturale è stato allestito cercando di renderlo funzionale non solo alla scuola ma a tutta la comunità al fine di creare un nuovo punto di aggregazione. Da ieri sera quindi si sono aperte le porte della Biblu 2.0, diventata anche multimediale e a passo con i tempi. Gli scaffali su cui i bambini e i ragazzi possono trovare i libri di ogni genere fanno da sé parea le diverse zone dove si possono poi trovare televisori e poltroncine per sedersi comodi a leggere i volumi e poi un ampio spazio centrale si rende idoneo ad ospitare eventi e convegni. Mi auguro che la biblioteca sia restituita non solo ai bambini di San Marco ma a tutti i bambini di Teggiano ma in generale della zona, a tutti coloro che ne vorranno soffrire. Attraverso questa biblioteca noi ci poniamo l'obiettivo non solo di instillare nei nostri alunni, nei bambini e nei ragazzini l'amore proprio per la lettura ma l'abbiamo immaginato anche come luogo di incontro, luogo dove anche i bambini con le loro famiglie possono venire a trascorrere qualche ora, non solo, quindi biblioteca come prestito di libri ma anche luogo in cui proprio poter stare, poter leggere. Come ho già avuto modo di dire, oggi non è semplice far amare i libri e la lettura ai ragazzi perché loro possono offrire di contenuti e di conoscenze attraverso modalità sicuramente più attraenti e più veloci e per questo oggi credo che questa biblioteca sia veramente un grande passo in avanti grazie anche ad un luogo che è così colorato, io dico così attraente, accattivante, pensiamo di poter attrarre qui i nostri bambini. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare chi ha dato vita a questa biblioteca che è il professore Giovanni Trotta e ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale che ci ha sostenuti in tutti i passi che abbiamo dato, ci ha sostenuto fisicamente, moralmente e chiaramente materialmente e chi prima di noi aveva lavorato a questo progetto. In tanti hanno voluto partecipare alla serata inaugurale che dopo il taglio del nastro, la buonissima torta, è proseguita con un concerto musicale che ha visto l'esibizione degli artisti capoani Roberta De Lini e Lino Cappabianca e il loro progetto sperimentale di canzone napoletana classica con voce e contrabbasso. E ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio, piaggine a misura di due ruote, l'amministrazione Vairo si sta muovendo per entrare nella rete dei comuni ciclabili della FIAB. Piaggine Bike Friendly, lente retto da Guglielmo Vairo, punta ad entrare nella rete nazionale dei comuni ciclabili. Aderendo al programma della FIAB, dopo l'accordo con Capaccio per la valorizzazione connessa di Pestume del Cervati e l'adesione al progetto Il Cilento ti dà la carica per una rete di piccole infrastrutture al servizio delle bici elettriche, si continua a pedalare per raggiungere l'obiettivo di un reale turismo sostenibile, assumendosi un impegno e una responsabilità a migliorarsi. Il progetto comune ciclabile infatti prevede la creazione della cosiddetta zona 30 e la relativa limitazione della velocità a 30 km orari nei tratti urbani più sensibili. La FIAB riconosce gli sforzi delle amministrazioni locali che mettono in pratica politiche in favore della cosiddetta mobilità dolce come quella in bicicletta. Valutano il grado di ciclabilità di un comune, ovvero l'insieme di infrastrutture e azioni che lo rende adatto ad essere vissuto e visitato in bicicletta e gli assegnano il relativo marchio e la bandiera da esibire lungo i percorsi. Il borgo di Piaggine si candida così a diventare un paesino a misura di due ruote, adatto agli amanti di uno stile di vita all'aria aperta, quindi del turismo lento, ai cicloamatori. Un comune ciclabile è innanzitutto un posto per le persone, quelle che ci vivono e quelle che nel caso specifico scelgono Piaggine e la montagna del Cervati come meta di vacanze ed escursioni. Andiamo ora a Salerno, il comune date le avverse condizioni meteo con previsioni che parlano di forti precipitazioni e raffiche di vento in questo fine settimana sia oggi che domani ha deciso di sospendere e di non attivare il servizio navette per luci d'artista. Dopo quello che è accaduto nell'ultima ondata violenta di maltempo che ha messo in ginocchio la città di Salerno, il comune ha deciso di correre ai ripari e alla luce delle avverse condizioni meteo con previsioni che parlano di forti precipitazioni e forti raffiche di vento in questo fine settimana sia oggi che domani ha deciso di sospendere e di non attivare il servizio navette a Rechi, piazza della Concordia previsto per luci d'artista nel fine settimana. Si tratta degli speciali collegamenti che consentono ai visitatori di parcheggiare l'auto nella parte periferica del comune capoluogo e di raggiungere evitando il traffico il centro attraverso dei bus che percorrono una corsia preferenziale realizzata sul lungomare. La sospensione del servizio prevede che la viabilità sul lungomare sarà quella ordinaria e non soggetta a limitazioni. Restano in vigore solo le restrizioni alla circolazione previste per luci d'artista nelle zone adiacenti al Teatro Verdi di Salerno. Una misura precauzionale dunque legata non solo ai possibili ingorghi nel traffico che rallenta con la pioggia ma anche per la riduzione dei flussi turistici fermati proprio dalle cattive previsioni meteorologiche. A causa della pioggia inoltre è stata anche rimandata l'inaugurazione del presepe di sabbia in programma alle 16 con il Vescovo di Salerno che avrebbe dovuto benedire la installazione realizzata nell'ambito dell'iniziativa. Tutto pronto per il presepe delle grotte di Pertosa Oletta. L'inaugurazione si terrà lunedì 23 dicembre. Dopo quasi 20 anni di stasi ritorna il presepe nelle grotte. La neoprologo Pertosa riprende questo evento nato nel 1985 e lo propone il 23 dicembre 2019 alle ore 16. Un progetto che si pone due grandi obiettivi. Rinnovare una promessa di amicizia e solidarietà inviando un augurio di pace e serenità ai popoli di ogni credo e nazionalità e promuovere il territorio nel periodo natalizio. In particolare il sito delle grotte di Pertosa Oletta, il museo del suolo, il museo speleo archeologico, la cultura, le tradizioni e l'enogastronomia puntando soprattutto alla destagionalizzazione. Un presepe artistico costruito dagli artigiani di Pertosa Oletta sarà allestito tra le stalattite e le stalagmiti delle grotte di Pertosa Oletta, nella vecchia caverna dei Pipistrelli e nel tratto navigabile del fiume Negro che scorre sotterraneo nelle cavità. Il presepe nelle grotte, che sarà aperto tutti i giorni fino al 31 marzo 2020, sarà inaugurato dunque lunedì 23 dicembre alle ore 16. La giornata inaugurale proseguirà con l'apertura alle 17 del presepe vivente del villaggio dei Saperi e Sapori, costruito a ridosso dell'ingresso alle grotte. Qui il villaggio nel tempo continuerà la scoperta delle botteghe degli antichi mestieri e degli antichi sapori, con la degustazione delle tipiche pietanze natalizie e delle locali specialità enogastronomiche. Nel pomeriggio inoltre tra gli abitanti del villaggio, tutti in costume tipico del Settecento e si esibiranno i gruppi folcloristici e gli zampognari dei comuni limitrofi. La giornata terminerà con l'ascolto del concerto di Natale di Espedito De Marino, direttore artistico della manifestazione che si esibirà alle ore 20. La manifestazione è realizzata dalla Proloco Pertosa, in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepio di Padula e con il patrocinio della Fondazione Mida ed il coinvolgimento di tutte le istituzioni regionali e locali. E siamo giunti al termine del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera, vi auguro, buona serata.